Io voglio aspettarmi qualcosa di meglio anche di quello che ho visto con la Juventus, non solo con il Verona. Abbiamo fatto dei passi in avanti, abbiamo corretto alcune cose, dobbiamo metterci ancora qualcosa in più in altre e raggiungere quell'equilibrio e poi essere bravi a saper interpretare quelli che sono i concetti di gioco, quelle che sono le situazioni che effettivamente possono farci riappropriare delle nostre qualità. Noi dobbiamo avere un ordine come abbiamo fatto contro la Juventus e allo stesso tempo essere più sbarazzini, ripartire di più e andare più a far male agli avversari e questo sarebbe poi il discorso finale, sarebbe poi la cosa corretta, la cosa giusta.